Ciao, sono Luca e benvenuti all'Isola d'Elba. Oggi sto percorrendo a piedi i sentieri tra La Kona e Capo Liberi, una lingua di terra tra due golfi, posti meravigliosi, sono le 7 del mattino e ci siamo io, qualche cinghiale e gli yacht che si stanno spostando in qualche altro golfo. Una piccola deviazione in questa caletta a gustarsi l'occhio, guardate che spettacolo. Questa mattina è caldo e sto pezzo tira. Amma mia! Oggi sono a Capo Liberi, Isola d'Elba, sui sentieri della Legend Cup. Capo Liberi Bike Park, un'ex zona mineraria che è stata ritrasformata e adattata a Bike Park. Sono con la Verdona e lo spettacolo è assicurato. Mamma mia! Una foresta di fichi d'India. Che roba! Con calma, il freno davanti sfiorato. Usiamo quello dietro, perché qua è molto sabbioso, molto sabbioso. Entriamo in un canyon, guardate che meraviglia. Puoi sbucare nella caletta opposta. Ma che spettacolo. Com'è che dicono qua? Maremma! Riposiamo un po'. Giornata nuvolosa, ma con degli spiragli di sole che illuminano il mare, gli scogli. Le c'ho paura dei cinghiali. Ecco, è pieno. Oggi nuovo giro particolarmente caloroso. Sono alla ricerca di sentieri un po' coperti dalla vegetazione, per stare un po' all'ombra, perché si cucina. Per fortuna che mi sono portato via da vedere, va. Tutto all'ombra, sto facendo i sentieri nascosti, un po' a caso, per proteggermi dal sole, perché è veramente forte. È anche agosto, eh. Andate a correre, andate in bicicletta, andate a camminare, andate all'aperto e divertitevi. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.